Buonasera a tutti dal vostro Tino Saporetti, dietologo nutrizionista. Allora, per cominciare questa puntata vorrei subito comunicarvi un po' di quello che è increscioso mi è capitato in questa settimana, perché sono stato massacrato letteralmente dai miei assistiti che mi hanno bersagliato di richieste di consulenza per la serie più riduco la vostra pancia e più riempio la mia. I miei assistiti sono di ogni razza, qualsiasi tipo di fauna maschile e femminile che da pallone allo statico vuole diventare, desidera diventare senza alcuno sforzo, una pallina da tennis. La maggior parte di loro si rifiuta, qualsiasi rifiuta, qualsiasi limitazione dietetica e qualsiasi movimento che non sia quello dell'apparato masticatorio. Dal mio canto io poi non voglio nemmeno chiamarli obesi, non voglio offendere la loro sensibilità, ma mi limito a sovranominarli con un termine molto comune, sovrappeso. Grazie. Grazie. Grazie.